La ricarica proteica, siamo soliti sentire il termine ricarica di carboidrati, rifiditulcilico o tutt'al più rifiditulipidico nelle fasi terminali di quelli che sono gli ultimi giorni prima di salire sul palco in Happy Quick, ma non siamo soliti sentire parlare di ricarica proteica. Ora il termine ricarica proteica praticamente è stato cognato da Alan Aragorn, ricercatore che penso conosciate più o meno tutti nell'ambito del natural bodybuilding, si occupa specialmente di nutrizione ma non solo ed è stato autore di diversi libri sulla nutrizione, tra i quali un libricino tra tante argomenti, l'argomento proteine e tutti i fatti e misfatti legati appunto a questo macronutriente e la sua componente base, quindi gli aminoacidi. E in questo libricino di recente stampa, tradotto in italiano, ha parlato di ricarica proteica che come semimilmente, almeno come spiega lui, alla ricarica di carboidrati aumenta ovviamente il consumo di grammi chilo peso di proteine ma senza avere uno scarico ovviamente precedente e viene applicato in contesti di ricomposizione corporea o comunque di cat. è una sorta di carb cycling, o meglio di modifica all'interno della carb cycling tradizionale e ancora di più possiamo dire che è un'ibrillazione tra una carne e acqua e una carb cycling classica. Solo che in questo caso appunto abbiamo una teoria di aumento delle proteine di 2-2,5 volte superiore a quella di base. Mettendo il caso che il soggetto consumi una dieta con un buon quantitativo di glucidi per la maggior parte della settimana e una 4 proteica circa 1 gramma e 6 chilo peso, arriva in questi giorni dove praticamente concentra le calorie praticamente del tutto su quella che è la componente proteica e aminia acidica e passa da 1,6 a 3,5 anche 4 grammi per chilo di peso corporeo per 2-3 volte a settimana. Ora lui riporta comunque che ci sono stati degli studi per esempio di Antonio e colleghe tal che hanno mostrato soggetti trattati con più di 3 grammi per chilo di peso corporeo e di proteine che non hanno mostrato né miglioramenti né peggioramenti nella composizione corporea. Ma questo studio secondo l'autore era appunto un po' fallace perché non si prendeva in considerazione l'intero quadro nutrizionale e di stimolo allenante, di contesto praticamente, per farla molto breve. e lui appunto dice che ci sono generalmente tre motivazioni per le quali lui vede una logica nella ricarica proteica. Uno è massimizzare la sazietà e ridurre il senso di fame durante i giorni con bassi carboidrati, questo pacifico lo seguono tutti. Il secondo motivo è alleviare l'affaticamento psicologico della dieta, sempre legato al fattore sazietà. E come terzo spingere teoricamente più in alto l'asticella della qualità della composizione corporea. Sappiamo che comunque gli aminoacidi hanno un potenziale di ripartizionamento calorico verso il miocita, quindi verso il muscolo e hanno questo questo up, up regulation verso la qualità ricercata a livello ipertrofico nella ricomposizione corporea. Non soltanto per quello che concerne appunto il senso di sazietà e la termoginesi richiesta per gestione l'assorbimento della metabolizzazione. E quindi c'è questa ipotesi che creando dei picchi, due o tre picchi alla settimana di questo tipo, migliori il quadro della ricomposizione corporea. Diciamo che comunque per quanto possa essere affascinante e applicabile, possiamo dedurre che non sia propriamente una grandissima idea, o meglio è applicabile a un pubblico abbastanza vasto, anche di non prettamente addetti ai lavori, che non sono proprio atleti inquadrati mentalmente in tal senso. E verrebbe un po' difficile poi pensare che persone che non sono molto avversi alle proteine possano consumare certi quantitativi, proteiche e soprattutto penso al fattore digestivo, con quantità proteiche che comunque consiglio giustamente magre in quel contesto. Sicuramente scegliendo fonti ad alta digeribilità come carmi bianche sicuramente si hanno meno problemi, ma con quel quantitativo di proteine, perché il tipo di peso, la scelta migliore sarebbe quella di mixare ovviamente il quantitativo proteico da fonte intere con proteine in polvere e o meglio ancora aminoacidi essenziali. E lui sottolinea anche un'altra cosa, che questa upregulation, questo miglioramento della ricomposizione corporea a favore appunto del tessuto contrattile, ha visto maggiore risposta in soggetti intermedi, avanzati, ovviamente per un adattamento a quello che è l'economia del trasporto dei macronutrienti. Detto molto semplice, il corpo si adatta ad utilizzare ciò che gli serve, quando gli serve, senza sprechi. E in acuto possiamo ipotizzare, ipotizzare, si tratta di accademia, che questi picchi vengano poi non tanto sprecati, ossidati, per dare uno sputo di energia, ma per andare poi a decolare, a comporre quello che è un po' il recupero che e sappiamo anche protrarsi oltre 48 ore dopo l'esercizio fisico. Quindi, e se poi vediamo e pensiamo all'atleta avanzato, ma anche intermedio avanzato, esercizi fisici, con pesi, quindi controresistenza, con tassi di intensità e volume abbastanza importanti, possiamo immaginare che questa risposta possa essere potenzialmente buona e accostarsi di qualche punto a quanto lui espone. appunto. Quindi lui anche contrappone questa sua teoria alla malsana applicazione di una riduzione proteica nei giorni di non allenamento, cosa che alcuni facevano in passato, alcuni hanno ipotizzato che fosse utile inserire, ma in realtà non lo è, perché sono i giorni proprio di recupero focale, quindi di conseguenza, non in tutti i casi, dipende anche da quanto ci si allena, qual è il proprio adattamento raggiunto, il potenziale di adattamento raggiunto, eccetera, ci sono altri fattori, però andare a ridurre le proteine nei giorni di non allenamento inficia più che altro la completezza di quello che è il recupero. Lui appunto dice che la sua esperienza con la ricarica proteica riflette i risultati interessanti degli studi sul sulproteico di Antonio Etal, così come la recente review fatta da Bararat Etal, sempre, che ha riportato un apporto proteico tra 2,6 e 3,5 grammi che ho peso, massa magra però, non peso effettivo completo, associate ad una composizione corporea ottimale, migliore. E' ovvio che se parliamo poi, ti ripeto, di atleti intermedi avanzati, abbiamo comunque un body fatto molto basse, stare lì poi a scendere, massa magra, massa grassa, lascia il tempo che trova, comunque sia, l'applicazione dovrebbe essere di 2-3 giorni con questi rifili proteici e gli altri giorni con una normale suddivisione in percentuali di macronutrienti con un buon quantitativo glucidico, un medio apporto proteico e un restante apporto lipidico che per un natural, parliamo sempre di soldi 0-0,8 grammi chilo peso come standard ottimale. Ovviamente se parliamo di un enhanced, il discorso è diverso e se parliamo di enhanced dei ricarichi proteiche potremmo anche stare qui a ipotizzare un aumento lì veramente più facile da ottenere, da misurare, da osservare. Anche se come spiegato nel video e nell'articolo dove discutiamo il fatto che appunto nell'ennance della quadra proteica può essere anche abbassata e ridotta in proporzioni rispetto al natural, perché appunto gli anabolizzanti, gli steroidi anabolizzanti e altri agenti anabolizzanti hanno la dote di appunto andare a veicolare, a esasperare quella che è l'economia precedentemente detta di macronutrienti, soprattutto delle proteine, degli aminoacidi componenti S e quindi diciamo che lì ancora di più il surplus proteico non è che serva. C'è un potenziale di utilizzo di più? Non proprio, ma comunque diciamo che quando vai a creare una ritenzione di azoto massimo che poi mi va a implicare una condizione metabolica muscolare che è ottimale per avviare tutti quei processi di costruzione, di accrescimento del tessuto muscolare, un surplus proteico più che altro lascia il tempo che trova, andando poi a essere utilizzato nelle sue componenti aminoacidiche per una dispersione maggiormente in calore e un'altra nei processi gluconeogenetici e una piccolissima parte irrisoria in quelli secondari che sono lipogenetici, di nuovo l'ipogeneto, ma quella è irrisoria da far schifo con i problemi ancora di più che con i glucidi in un soggetto non risultato resistente. E quindi questo interessante, applicabile, testabile, probabile, ma sicuramente non una grandissima idea e non mi aspetterai grandissime cose. Sarebbe interessante da usare come break diet, appunto come pausa da una dieta ipercalorica tanto per spezzare un po' la continuità e andare a recuperare i parametri di insieme la sensibilità, ma comunque con le giuste precauzioni, soprattutto per quanto riguarda la prima citata componente digestiva, evitare, sai, in effetti putrefattivi e compagnia. Quindi, anche oggi abbiamo detto la nostra.